Il problema delle macerie che insistono sul sito, proprio in questi giorni sta avendo un momento di decisione ferma sulle modalità di sbaltimento. Un mese e mezzo fa abbiamo ricevuto noi, ma soprattutto il Comune, questo provvedimento dell'autorità giudiziaria di dissequestro dell'area e quindi da allora insieme con il Comune abbiamo supportato questa attività. Oggi abbiamo approvato il progetto di generazione comunale che quindi prevede la rimozione immediata del legnatico nei tempi dovuti alla separazione del tipo di macerie previsti per legge. Quindi in un periodo immediatamente successivo la rimozione proprio di tutti i detriti. Quando dovrebbero partire questi lavori? Quelli del legnatico a breve o meglio i lavori partiranno a breve, si inizierà con il legnatico e immagino poi nel periodo inizio della primavera e poi si continuerà con tutta la parte detritica per ultimarla nel più breve tempo possibile.